Fra il 1959 e il 1965 venne ricostruito il ponte di epoca romana, dopo aver recuperato dal greto del fiume e dai luoghi circostanti tutti i conci rimasti, l'80% di quelli originali, averli catalogati accuratamente, numerati e quindi riposizionati secondo le modalità antiche, in base ad una tecnica di restauro detta anastilosi, con la quale si rimettono insieme, elemento per elemento, i pezzi originali di una costruzione andata interamente distrutta. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!